Filippo Betti accanto a me, Filippo Betti è il giovanissimo sindaco di San Procino, con la M. Di Caprese Michelangelo, San Procino. Sì, lui è la frazione di Caprese Michelangelo, lui è il sindaco di Caprese. Noi abbiamo mandato un servizio del quale, quel paese per cui gli abitanti si lamentavano che un paese bello in quel modo c'era una trascuratezza sulle pavimentazioni, sugli scassi dovuti alle opere di urbanizzazione, insomma, si sentivano trascurati dal sindaco. E Filippo, te sei venuto giustamente a rispondere, noi siamo ben felici. Innanzitutto vi ringrazio di avermi dato la possibilità di rispondere, perché mi preme. San Procino è una stupenda frazione del Comune di Caprese Michelangelo, come ne abbiamo tante perché è fatto di frazioni sparse. Quello che innanzitutto rassicuro gli abitanti di San Procino, che non sono assolutamente dimenticati e sono tra le nostre prerogative, gli investimenti sono stati fatti negli ultimi anni al cimitero per asfaltare gran parte della via limitrofa all'abitato di Papiano e a breve, entro giugno, al massimo periodo di luglio, abbiamo già approvato un progetto per tutta una serie di investimenti sul territorio per la viabilità, tra cui anche San Procino. Infatti mi è venuto quasi il dubbio, dato che il signore che ha intervistato lo sapeva, che erano in programma questi interventi, non vorrei che, come dire, si voglia arrogare poi la paternità dei futuri interventi. No, forse sai che abbiamo detto che li sveltiamo. No, ma perché succede questo? Ma la televisione si è venuta a sveltire. Io guardi, sono già in programma da una mesata, infatti avevo già informato tutti, però a parte gli scherzi ci tenevo a dirle che ci sarà un intervento a breve. È bellissimo, poi con il lago dietro è veramente un bellissimo. Siete prima gli restauri il cimitero, loro quando sono morti che se ne fanno di vedere. No, ci mancherebbe. Il cimitero è stato un intervento, io ancora non c'era, del 2007-2008. Uno degli altri problemi di San Procino è la lontananza dei bidoni della nettezza urbana dalle case, quindi ci sono degli anziani, e l'illuminazione carente, l'illuminazione pubblica. Sì, allora per quanto riguarda l'illuminazione non è che non funziona, è effettivamente bassa. Anche in questo caso abbiamo proposto di inserire una luce un po' più forte, alcuni non vogliono perché vogliono, dice evidentemente, più privacy, però diciamo che questa è una competenza del comune, e se non facciamo un dispetto la mettiamo più che volentieri. Per i bidoni, obiettivamente, nell'abitato non c'è proprio posto. In realtà ci sono posti anche più lontani rispetto all'abitato di San Procino. Io tengo a dire, che è un'informazione a cui ci tengo molto, noi abbiamo la tariffa di nettezza urbana per la più bassa di tutta la provincia di Arezzo, abbiamo 0,94 euro per metro quadrato dell'abitazione civile, la più bassa della provincia di Arezzo, e una delle più alte di raccolte differenziate, sopra il 45%. Questo è un nostro vanto, perché la gestiamo noi in economia, cerchiamo di ottimizzare il servizio. Scusa Sindaco, se ti interrompo, ma a proposito della differenziata, una donnina aveva portato un armadio lì, e l'hanno montato e hanno detto, ce l'hanno detto al comune. No, 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 anzi, io vi ringrazio un'altra volta perché almeno posso chiarire. Assolutamente è vietato lasciare quei tipi di spazzatura vicino ai cassonetti. Non la ritrovano, ma possono picciare. No, no, assolutamente. C'è una multa, infatti io dico sempre ai miei concittadini che... Fate i nomi. O perlomeno ci chiamate, il vigile lo sa bene, va giù e fa una multa, perché lì è un posto di passaggio. Quindi spesso accade, veramente spesso, che la gente, anche non del comune, diciamo la verità, passa di lì e li scarica, perché semmai non gli scoccia. E quindi a quel punto noi, che facciamo, o la portiamo via o la lasciamo lì. Non mi sembra il caso, la portiamo via, però è assolutamente vietato. Anzi, è passibile. Tra l'altro so che avete avuto dei finanziamenti anche per la casa di Michelangelo. Quindi verremo a trovarvi. Faremo un altro servizio su Caprese Michelangelo, ma l'essenziale è sapere che gli abitanti di San Procino avranno la pavimentazione rifatta, gli asfalti messi a posto. L'asfalto sicuro. La Corte Comune purtroppo è privata. Ma come può essere privata se ci passano le tubazioni? Il punto è questo. In realtà sono le fugnature, adesso è 9 acque, ormai da 10 anni, 11 anni. Il proprietario del Comune è una gestione di 9 acque. E Alcatastro è privata. Cosa succede? La frazione è un po' la caratteristica di una litigiosità tra gli abitanti, insomma da una ventina, 25 anni, per problemi che... E quindi noi ci siamo proposti. Prima dico, cedete, cedete gratuitamente, facciamo intervento. Però a qualcuno non è andata bene. Allora abbiamo chiesto di almeno firmarci una liberatoria per poter fare l'intervento, perché altrimenti anche la Corte dei Conti ci dice perché fate l'intervento? Però dato che i spazi pubblici... E anche quello una persona non ha assolutamente voluto. Io mi trovo in difficoltà, anzi io faccio un appello. Venite in Comune, e gliel'ho già detto, firmate il foglio, a dire il vero mancano solo uno o due firme, e noi iniziamo, però io ho bisogno che mi diano l'autorizzazione, posso andare in casa degli altri a fare l'intervento. Andiamoci da fare anche noi cittadini. Andate in Comune, il foglio è già pronto, firmate questa autorizzazione, e noi di Chiaretono TV torneremo a lavori fatti e a festeggiare. Le donne saranno capaci a fare la pasta, più che brave, crostini, poi vediamo di farle organizzarci. Si finisce, sarà a Lucevino. È un classico. È un classico. Grazie al sindaco di Caprese Michelangelo, grazie agli abitanti, e grazie, mi permetto di dire, anche a Chiaretono TV che ha fatto da tramite per dirimere questa sorta di lite. Grazie. Il sindaco giovane, quando diventerà il parlamentare, perché uno che ha neanche 30 anni è sindaco di Caprese, prima o poi va a fare il parlamentare. Sarà dura, però, vediamo, non credo che sarà la mia carriera, però... Il fisico ce l'ho. Il fisico ce l'ho. In bocca al lupo. Grazie. E buon lavoro per il tuo comune. Grazie, anche a voi. Grazie.